Musica Il parco del Polivalente comincia a rinascere, i ragazzi delle noci oggi inaugurano due orti sociali. Sì, 200 metri quadri di orto in cui noi coltiveremo rape, piselli e fave, quindi verdure stagionali. Saranno impegnati i ragazzi del Viennio e poi tutta la scuola, insomma, seguirà questa coltivazione. Come tutte le nostre esperienze, cominciano con un piccolo gruppo, poi tutti si appassionano e si melano a capofitto all'interno del progetto, quindi è una bella esperienza. Noi sentiamo molto l'esigenza e il bisogno di diventare cittadini fino in fondo, curandoci noi stessi questo grande spazio che abbiamo davanti alla scuola, che fino a pochi giorni fa era, dite voi, com'era? Abbandonato. Orti sociali ma non solo? No, non solo. Tutto quello che può dare modo ai ragazzi di diventare cittadini. Tutto quello che può creare cultura, voglia di pensare e anche divertimento che serve appunto al bello. In questo senso gli orti, in questo senso anche il campo di scacchi che viene utilizzato settimanalmente da ragazzi a gruppi e poi un'aula all'aperto che sta per nascere, sarà pronta entro primavera, sempre all'interno di questo parco.